Rada Hotel, Luxury and Experience, la prima catena alberghiera di lusso galleggiante. Eleganza, comfort e straordinari paesaggi abbinati ad esclusivi servizi di pernottamento a bordo di lussuosi ed eleganti yacht in formula hotel. Crociere in libertà, una vacanza da sogno tutto compreso. Rada Hotel, noleggio e locazioni yacht di lusso. Contattaci allo 081 18 21 06 37.